E' un panel molto ricco di persone, quindi cercheremo di essere il più concisi possibile. E' una formula ibrida in cui ci saranno degli interventi, ma anche delle letture. Speriamo che questo possa farvi piacere. Io ho il piacere di essere la prima persona a parlare e fingermi moderatrice per questo evento, perché in realtà, come vedete, sono in presenza di persone che sanno perfettamente fare questo mestiere. Però colgo l'occasione perché mi sono costruita una sorta di discorso proprio a partire da quello che ci siamo raccontati in questi giorni, in questa esperienza che abbiamo avuto a livello collettivo. La prima parola chiave che mi è venuta in mente, chiaramente, soprattutto arrivando su un'isola, è un motto molto semplice, è una sorta di promemoria che è no borders. E penso che no borders sia una cosa che possiamo adoperare, anche per parlare di quelle categorizzazioni statuarie che in qualche maniera limitano la nostra percezione della letteratura, che finiscono a impedirci di vivere serenamente la scrittura. Perché nonostante io stessa sia una persona che rivendica l'importanza dell'autorialità sul testo e quindi anche la definizione del testo scelta da chi lo produce, ritengo che sia una sorta di autorialità denominativa. Cioè, rischiamo oggi di andare a definire troppo e troppo fortemente, così come facciamo nel campo della geopolitica, tutte quelle voci che non rispondono a queste categorie occidentali che abbiamo un po' inventato per servire il nostro scopo di letteratura e quindi, fondamentalmente, di mettere a tacere tutte quelle persone che afferiscono alle categorie, diciamo, di subalterni. Ecco, continuare a lavorare secondo queste categorie, sia in termini di politica, sia in termini di letteratura, fondamentalmente, grazie mille Dimitri, e, fondamentalmente, vuole dire andare ad avvalorare un sistema dato, un sistema dato che però non è scontato che sia un sistema giusto. Cioè, continuare a lavorare secondo queste categorie non ci permette di rimetterci in discussione e se non lo facciamo a livello di politica e non lo facciamo a livello di letteratura e in totale congiunzione di questi due forti spiriti, a mio avviso, chiaramente perdiamo la possibilità di guardare all'unicità del mondo, costituitesi secondo la pluralità dell'identità che lo costituiscono e la pluralità delle voci che lo costituiscono. Mi ero segnata qui una cosa che era, abbiamo questa tendenza, mi sembra di capire, a continuare a guardare indietro come fossimo tutti mogli di lotte, no? Diventiamo queste statue di sale che sono affezionate al passato proprio perché tendono a celebrare qualcosa di conosciuto, qualcosa di conosciuto anche se rischia di essere una cosa negativa, perché il male conosciuto fa meno paura di quello che potrebbe, succedere se decidessimo di ribaltare continuamente le possibilità di immaginarci completamente sconfinati. Per poter parlare di no borders dobbiamo chiederci che cosa sono, chiaramente, i borders. Venendo su quest'isola mi sono ricordata che alla scuola elementare in Italia la prima cosa che ti insegnano è che esistono dei confini naturali. Ok, ma che cosa è naturalmente un confine? Lo è magari una roccia? Lo è il mare che ci ha portati, no? Abbiamo dovuto adoperare un traghetto per raggiungere questo luogo. Penso che sia sciocco limitarlo soltanto a questo perché il confine di fatto è un'idea che noi abbiamo creato e quindi non è altro che un'operazione. E come tutte le operazioni umane, come in letteratura, così come nel nostro stare al mondo continuo, è un'operazione che possiamo assolutamente decostruire. E soprattutto, cosa è naturale e che rispetto abbiamo per il naturale? Perché in questa bellissima isola, che è molto attenta anche all'ecosistema e alla preservazione dello stesso, io mi sono invece immaginata quello che sta succedendo al nord del nostro bel paese. Siamo in grado di dirci capaci di costruire la TAV, no? E quindi per i mercati ci diamo una possibilità di scambio continuo di merci. Ma non siamo in grado di accettare un'altrettanta facilitazione di scambio di persone e comunque andiamo ad attraversare quello che teoricamente dovrebbe essere un confine naturale. E allora, come ci poniamo in termini di rispetto? Cioè, dov'è che il vizio del nostro sguardo viene messo in discussione? Per cosa siamo pronti a farlo? Parlando di confini naturali, mi è venuto in mente che naturale è un termine che purtroppo mi è caro, nel senso che ho dovuto lavorarci molto come persona, come persona che scrive e come persona che studia. Questo perché naturale viene detta spesso la propensione femminile alla scrittura emotiva. Io vorrei allontanarmi da questa definizione e concentrarmi invece su quello che di buono si è riusciti a costruire da questo principio in qualche maniera indotto. E quello che io credo sia davvero importante è il lavoro di cura, che non è una questione di propensione, ma invece la risultante di un impegno costante. Cioè, l'impegno costante che ci prendiamo ad essere brave persone, senza voler aprire troppe parentesi, però mi ero segnata che secondo me quello che noi possiamo fare nel tentativo di essere continuamente presenti a noi stessi politicamente, spesso questo alle persone non lascia il tempo per la scrittura. E quindi in realtà ancora, nuovamente, i sistemi di geopolitica attuali tornano a togliere la voce alle persone subalterne, alle persone che il tempo per la scrittura e per la lettura non ce l'hanno. Allora forse vogliamo costruire una nuova possibilità di società politica e letteraria che si basi su un'empatia strutturale e posturale, come suggerisce Adriana Cavarero attraverso l'immagine dell'inclinazione corporea, e metterla invece contro a quella che viene definita diciamo da Kant e poi mutuata dalla stessa Cavarero, l'individualismo del soggetto, del I di Virginia Woolf che dice questo io che tende a spiccare verticalmente e prendersi un po' tutto lo spazio nonostante sia slanciato. Ecco, cerchiamo di decostruire questo individualismo strutturale e affidiamoci all'empatia. Quindi vorrei fare un elogio al lavoro di cura, perché è un lavoro apparentemente improduttivo in questa chiaramente situazione sociale capitalista, però è improduttivo quanto il piacere che è stato guardare la struttura in ferro che si erge nel lago, almeno dal poggio noi avevamo un modo di vedere questa cosa, sembrava una sorta di Gesù che cammina sull'acqua fatto in terra, una cosa bellissima. Perché dovrei negarmi questo soltanto perché non ha prodotto nulla? Parlo di elogio, parlo di elogio del lavoro di cura perché mi interessa rifiutare qualsiasi forma di assimilazione al pensiero della geopolitica attuale, al pensiero di una letteratura che si piega alle politiche attuali. E quindi arriviamo a una seconda parola chiave che è no assimilation, ovvero per la geopolitica esattamente come per la letteratura, io ritengo che ci sia un problema di genere. Of course, it's not only a matter of gender, but that is as much as I can say, because I am in my own body, this is the way I am perceived as feminine, I have a white body, all in all I have to deal with all my privileges. So that's as much as I can say and for everyone who would like investigate better what's the current situation I would suggest to read something written by Gaia Giuliani, perché come persone italiane dobbiamo ancora fare i conti con il corpo incarnato nello spazio della geopolitica. Quello che però posso fare io con questo corpo incarnato in questa situazione è quello di cercare di acutizzare l'empatia che cercavo di proclamare prima. E quindi non esprisco sicuramente certe oppressioni, posso godere del fatto che nonostante il mio passaporto scada adesso ad ottobre, insomma la sventura più grande è che dovrò arregarmi all'aere e sappiamo che magari è un po' complicato, però sicuramente la mobilità del mio corpo incarnato è facilitata e quindi la mia possibilità di incontro continuo è chiaramente molto migliore. Però io ce l'ho un'esperienza anche nel mio totale privilegio ed è quella di aver vissuto per tanti anni in un paese straniero, io ho scelto di andare a studiare fuori, ho scelto di andare a studiare in Inghilterra e mi sono ritrovata a parlare una lingua mista, una lingua che chiamano e io chiamo Britallian e mi sono appuntata che io di fondo avrei potuto richiedere la cittadinanza inglese una volta che purtroppo i miei compatrioti del tempo hanno deciso di votare per Brexit e probabilmente avrei passato l'esame anche abbastanza facilmente perché sono una grande appassionata della storia inglese. La verità è che io non voglio prendere una cittadinanza che mi porti a dire sono suddita, non voglio più avere a che fare con questo tipo di gerarchie. Sto parlando della mia vera vita, che è questa vita inglese e quindi l'unica cosa che mi resta ad oggi di questa lunga esperienza, ho passato quasi otto anni pieni, potete immaginare che mi ero costruito una vera e propria vita. Quello che mi resta di più è la lingua della poesia, cioè della mia poesia, che è più suono che grammatica, è una poesia fatta di ripetizioni, è una poesia fatta di inciampi ed è un po' la mia maniera di rifiutare l'assimilazione. Io non voglio parlare l'inglese britannico che è l'inglese imperialista, io voglio che ci sia una flessione, un'inclinazione da parte dell'altra persona perché la lingua rimanga mista, rimanga parlata da chi ce l'ha in bocca e questa è un'altra cosa che io penso che si debba ritrovare anche sulla pagina scritta. L'ultima cosa che volevo dire prima di leggere qualcosa e salutarvi è che questo senso di moto continuo e di rivolta fondamentalmente si radicalizza nel termine queer. Queer è un termine politico, ma ha avuto molti di rivoluzione, di rivoluzione, di rivoluzione, di rivoluzione, tutto il possibile rivoluzione, basicamente. Sonic Youth è un'alba di rivoluzione. Rivoluzione, magari. Queer è una parola sporca, mi sono appuntata, e noi come comunità queer, mi prendo la responsabilità di usare un noi plurale, ce la siamo ripresa sporca fondamentalmente, ci piace così. E se oggi è interessante sicuramente parlare di queer in the borders, io invece mi prendo un attimo questo momento per dire che in Italia questa parola è arrivata un po' scarica del suo significato, un po' troppo glitterata. E allora vi propongo una riflessione di Nina Ferrante e vi dico, frocizziamo. Frocizzare è una parola complicata perché fa paura, perché non è una parola accademica, perché non è una parola letteraria, o almeno così non viene immediatamente. Bene così, mettiamoci alla prova, sfidiamoci, perché queer è posizione, è riposizionamento, durante questo moto continuo a cui accennavo, e quindi è un costante movimento, è una maniera di guardare al mondo attraverso ibridazione, estroflessione del soggetto, comunicazione e soprattutto rinegoziazione continua, che è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Quindi penso che in questa circostanza sia molto importante e molto bello poter cercare di assumere tutti una posa e una posizione che abbraccia lo sguardo eco-queer, oppure per essere un po' extra-accademiche, eco-frocizzante, perché è uno sguardo che viene fondamentalmente mosso dal desiderio, che è una cosa che abbiamo un po' messo da parte. Ed è un desiderio di rifiutare la gerarchia, l'egemonia e di contrapporre al principio di cura, o meglio di contrapporre il principio di cura a quella che è violenza endemica. Questo era brevemente quello che volevo raccontarvi, sperando che potesse un pochino anticipare una breve lettura che farò, sono tre piccoli inediti pensati per questa occasione, e poi una poesia in inglese, sperando che il risultato di quello che ho cercato di raccontarvi dal Britallian funzioni. Dal centro si slaccia la lingua, da dentro rovesci i confini, non serve una foto, un lascia passare la voce, riporta a norma di legge le nostre pericolose geografie troppo umane per lo stato di cittadinanza a due. Ti parlo, straniera in casa. Dove finisce la mia mano comincia il mondo vero che tocco, con piglio e disincanto dove finisce la mia mano, dall'acqua del grembo, dal lembo di terra che manca, dal corpo in confino, dall'acqua che è dentro. Aperta la tomba, dappertutto si espande in segnale radio, la perdita, ricordo la prima argilla alla saliva, ora sul tuo appezzamento un pomodoro marzolino, diversa natura dalla percepita, a mezz'aria si estorce la verità alla vita. Sarò breve con quella in inglese. Sono molto contenta di leggervela perché in realtà è una poesia, volevo dirlo prima, è qualcosa che ho scritto quando ero visitato l'Australia e sono benvenuta da persone indigenze. E' stata una meravigliosa esperienza, ma ovviamente ho solo avuto la possibilità di avere questa esperienza perché del mio privilégio bianco e ho avuto che ero visitato un paese. E sono guidata nel paese da qualcuno che ha avuto molte cose prese da sé. Tra queste cose prese c'è proprio il rapporto con la natura, che è stato completamente, drammaticamente rovinato dalla corona britannica. E quindi, felicemente, in onore della morte di Elisabetta II, spero che possa anche questo partecipare a un riavviare qualcosa che non preveda monarchie, egemonie e una violenza sul territorio, soprattutto quando imperialista. Il corale sounds so green and magenta, the short one rests in peaceful water, the wave, the long one warns it's coming, it's like a spirit at the door, a breeze, a breath, and back into your eyes a bird commuting three times per day from one side to the other, the island a million times, if lucky a million and one, a bird is not responsible for the weather. The coast is white, the sound of waves, it is the sound of grief, the sun, the coral, the sea is morning colour. The core buried underground, each one, one stem standing, fifteen feet tall, dry in the wet forest, dry in the wet, wet in the bush, long strong leaves, firebush, water it down, burn it down, count the skirt and water it more, braid it and weave it and purer water again in the stem as a straw, the strings, the coconut skin, the strings, the mosquito sting, the stingy orange consistence, the mango, the fruit, jackfruit roasted seed skin that stings. Milly, milly caterpillar, hairy, sweet fruit, harsh reminder, every year on the day you touched it, witch doctor in rainy days and full moon poison turns kind and make wax from the stem, pure water, shaved smooth, wet moisturised lips hide in the red, red cedar and bang, 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 three times the stone in your hand, bang it on the red cedar, the head of a bird banging on the red cedar, the house of the queen in red cedar, red, red cedar. She doesn't even know what her house is done of, she doesn't even know what she has done, she doesn't even know and that is worse than not carrying at all the house, one at least, not a palace, but still a house which is no home, all the homes out of red cedars are no longer there, there are no more homes, there are homes no more but houses and there is no more red cedar, red, red cedar. Fight me mother, daughter, nature, name me daughter, bring me on my hip, on the side, this side is the side for a mother becoming a woman and leaving a daughter with a grandmother, making a girl, a woman, making herself a future mother in becoming her granddaughter, making her mother in for a future as a daughter and keeping the time a circle line, keeping it a secret from the man and the man in becoming and it's always a circle for every woman, it's a welcoming circle. Grazie. Allora, noi abbiamo deciso di seguire l'ordine alfabetico con cui ci hanno segnalati e quindi lascio la parola a Dan. Grazie. Buongiorno, io non parlo italiano. I made a, I wrote a poem in English so that can be understand. I would like to say thanks and thank you so much to Maria Borio who is, who is tireless and salute all, all the poets in the room. It's a nurse lullaby. Stars are white flowers that teach us the beginning of light. They tell us about dance as if in the dark sky a line were raised and verticality imposed itself. We forgot it as dead people who don't remember their past just to come back to life infinitely more pure. That's why I slide my finger on the sand and feel the earth, the air, the fire, the water. And if I inhale, data draws the crotters of moon and whispers in my ear that ink is the witness of a cuttlefish. Celestial spheres writes me a letter without fear of the power of music. The poem has no index nor is it distinguished from a tree that on the form of a liar lies on my firm shoulder and speaks freely. The restless reverie of the text is just a narrow path across the page, a mirror of nature. Letters are fragments of minor atoms ordered in spatial structures, mandalas reflecting the exosphere's vibrations. They lie down on the page as nymphs using ancient Pythagorean formulas. From numbers, letters pass to musical notes, from semibreaths to weight notes. They gather what the divine telescope saw on the seven days of Genesis without forgetting the night which became a storm so big that the Bible repeats every day the wonder of giving birth to the world. We are a cosmos miniature, a fragile and tiny model of a primitive story, a small and labirintic year. We are minor points of energy singing over the earth as in ancient rituals. We are starseeds. So we write. We yell old singings to restore the beginning of life on the unusual side of our own frustration. We are dead as the characters of Dante's Comedia, dreamers of a world we does not exist, murderers of our land who forgot the old earth magicians. Where are the shamans who healed wounds within clouds of smoke, tired of deep-rooted metaphysics? Like a sanctuary of sorrow, the earth is still here, not insolable enough. It's a kind of whale, full of holes, bleeding from the heart as if dust could walk into the light on the limits of universes' cathedrals. She cries in her heroic laughter. She does show us her tragedies jump from the crushed ice, horrified with human acts and decline of innocent faces. No one can keep alive his own soul, as it was said, without fighting for her like a hungry dog. Fear says nothing, but the afflicted are afflicted. Now ice, in its liquid form, has a monstrous way of being fluid. Earth earned another body with ice, like a river spreading cold water, set in a tricky wilderness of no love, no astuteness, no glory. Where are you, blue island, suspending the moon, stars and planets? Go and take out the garbage, so that by noon you'll speak throughout the mud and oary summer stones and yell, man without wisdom, you have gone, nothing in hand, just knives and no red roses. Shall seeds grow in the skulls of the meek? Earth is a scared mother, woman without man, woman of no woman, an insatiable child with an arrow and a stubbornly running through the forest. There is still sunlight, but humanity lost its lips. Our bones are dry, like a crow in the woods. Women forgot their breasts, hanging down on tablets like cult, unbreakable machinery. There's a disturbance in the incense of our track. Our feet have no fingers, even so they are proud of their sorrows with no destination. How far must we go to survive? How many of us must cultivate the strange stupidity of not knowing to be alone? There's no next choice, just a letter in the absence, But talents of bees without name, calling her queen in a wasp's nest. O sacred tigers, gather your army of peace, laughing in a vision for salvation. But no, they lie down in a thine hunger, and don't move, don't laugh, don't rest, Nor restore the house of peace, and no desire. Shadows drive us to small and unbearable things. Couples are awake, maybe dead. In the darkness of their eyes, no clothes, just hate. They have no name, just he or she, vampirizing the fattest ego in distance. Into dirt we go, with no divinity belly, with guilt, unconscious guilt we go, holding plastic bags with our teeth, and no bothersome words and speeches. We are scorpions or bad actors, goats of the future or of its fall. There's no blossom nor bread to forgive us. How can we forget our lack of innocence devoured by fire, by self-image monsters? The new models indicate that the first stars were quite massive and luminous. Where are they gone? The ancient shaman kneels to feel the air and the holiness of the wind, son. He kneels and shouts throughout the woodland, trying to save his people and Earth's beauty. But not even the eagle can make her nest on high. His strength, as a whale, is dried up by the fights against the breeds of blind numbers. For is great his love in the road of tenderness. Wash the earth out of her transgressions. Her desiring truth is lost in untruth words, in chemical crimes, in unforgivable chips, in the drums of hypocritical technology. And still she lives, she the land, she lives. She lives with it and rises up like a round blue ocean in the space. A green olive tree is just the beginning of a book of wonders, for then the birds could fly away from all trouble. But as for Gaia, violence covered her skin with dishonor, proud and cruelty. Her heart has grieved like a moon that despises its own image. Animals live unaware of the brief nature of their shelter. who shall inherit the land, these operations of man's dirty hands. Echo thing is bizarre. It is merely here, Earth. It kind of disappears when we concentrate on our tasks. Like suffering. But they do exist. Earth and suffering. Also as a version of our imagination or illusion. Earth and pain. Pain is a gap between a wolf and a lamb. A mind talks about dissolution and speed. Pain is a twist. No one sees coming now with a new vocabulary. Flood, biosphere, tectonic plate, migration. Look at the ground where you stand. Look at the water which surrounds you. See the mountains or the air where we float. Are they more real than things we believe in? Are they more present than others? What to do with them? Maybe we could try to live a head thought. A head thought. Nothing can be totally accessed through our mind. Feel within the light as a butterfly lamp. Feel within. Feel within the butterfly lamp. Feel as hell. Feel as heaven. Don't feel as if you've turned off the light. Shen Resig, the one with the body in a thousand pieces, makes the elephant of ignorance fall asleep in the lap of Earth. And that's how it is. Kali protects human shadows, but the digital order makes the world less tangible by informatizing all of it. Leave something out. Maybe a crystal, a piece of fruit, a pumpkin, a kind love. There's always a nameless island where objects, memories, one day will disappear. We hide their reality to suffer less. It's called illusion. Often we suffer more. In our infamonia, all vanishes, even land, nature, beds and chairs, our clocks of order, our lamps of darkness, our human life, because we are others. A multitude of beings. Only the screen survives, the best and the worst. A kind of mirror with no image, just made of holes, dumps, lies and empty spaces in the outer time and place. Think inside. Monitoring our lives, we turn out to be information processing actors. We whip ourselves in order to be masters, said Kafka. Masters of what? So, we torment ourselves and don't resist. We just talk and talk and talk and sell TV news. Oh, smartphones that lead us to nazisistic spheres. Are you alive? Are you sure? All turns out to be a net. Hit it. Fight. Stop googling for an instant. Stop loving online without eyes, mouth and breath, short of deep thinking empathy. Swim instead throughout superior waters. Echo humans, bureaucratic, autocratic legislators of good, can be plastic flowers. Is it earth, sized by a progressive disintegration, a kind of body disestructuring itself? Is it earth, a body like writing, as when we love or give up? Once upon a time, there was a moment of content that only left undisturbed silence. So, it was said by the poet while he lay down in the page, dreadfully tired, hoping that his useless speech could turn out to be a kind of lively energy, a way of collecting good seeds from the arc of metaphors. But he's in despair, inside Gregor Samsa's cocoon. Although disbelieving, even so, he gently writes, once upon a time, in an old poem, the silver sea surrounded the earth and sang very, very slowly a lullaby to his huge mother. So, sleep without fear, my mother. They will guard thee from arm with fair dreamland's sweet charm. Thank you. Thank you, Anna, so much for already like bringing poetry and un ibrido, diciamo. Lasciamo la parola adesso a Roland, che credo che farà il suo intervento in inglese, ma poi ci sarà anche una sorta di sostituzione con altre lingue. Non preoccupatevi. Thank you. Buongiorno. Thank you for being here, and I want to thank the organisers for this fantastic possibility of meeting. And I will speak about how the geopolitical interests influence the literature and my writing. First is about phantoms. So, I was born in a country which doesn't exist anymore. Before that country was established, it was that geopolitical space, it was a part of empire. So, another country, another geopolitical interest. All these geopolitical strategies, interests, of course, influence those people who live there, on that space. So, I was born in a mixed family, that means that I was a part of minority and majority at once. So, this situation created in me and my writing and my writing and in the literature of that space, special literature, which is reflective literature. Let's say that it reflects on these mixed identities and these geopolitical transformations created another Hungarian language if you compare it to the Hungarian which is spoken in Hungary. Since this Hungarian language is different, this Hungarian language is different. Gilles Deleuze and Felix Gatery, they have a book about Kafka and about minor literature or minority language. They state that it is a language of de-territorialization and re-territorialization. So, de-territorialization is the language when the territory is not anymore as it was. It is an alternative territory and re-territorialization of the language is an aim to create a special language, a special space in the language. So, when I was a part of the minority in Vojvodina, I speak that language. And when I came to Hungary, I was speaking in the language which was not completely understandable for those who live in Hungary, especially when I said rude words. You know, in Vojvodinian Hungarian language, it's a mirror translation of the Serbian rude word like my cat is in pain. We always said, I don't, that means I don't care. And when I said that in Hungary, the people thought that I have some problems with my, so that, that was a question of minor language. So, I was a Hungarian who is not a Hungarian. I was a barbarian Hungarian. And with the change of geopolitical space of my living, like, from Vojvodina, that's the northern part of Serbia, and when I came to Hungary, that's a different geopolitical space with different geopolitical identity or identities. But there are some similarities, of course, with the Vojvodinian one. Did it create a new language in me? Did it create a new identity in me? In the 90s, Hungary started to open its borders to the west and to create some kind of European identity after the Soviet Union. But I considered Hungary still as a post-Soviet country, not a European country, at least not with European identity. But what is European identity? Is there a Central European identity? Is there an Eastern European identity? What is it? When I was in India, that was the time when I discovered that I'm a European poet. Until then, I never thought about myself, like, I'm a European poet, or I'm a European. Why is this? Why do we think like this? Or why do I think like this? In the literature, I was thinking, should I now start to create a new poetry or a new language, which reflects on this new geopolitical situation that I'm in Hungary, which is a part of the European Union? Will this be a European poetry, or Central European poetry, or Eastern European poetry? Will this poetry have geopolitical identity at all? And then I was thinking, it may be more important to create autonomy, autonomous zone in a poetry or in a literature. What kind of poetry will be that? Well, that poetry, for me, is a fragmented poetry, is poetry of mixed languages, poetry of collage of these experiences that I was in Yugoslavia, born in Yugoslavia, but that geopolitical space had this phantom body of Count K monarchy, of Stefan. Yes? You are blessed by the emperor. Thank you. Thank you, France. And, of course, post-Yugoslavian experience. And that was mixing with the Hungarian experience, which was, of course, again, has this plus of Soviet experience, or post-Soviet experience. So, all these metaphors or motifs in the language, for me, are the tools of creating a critical language. So, autonomous zone in poetry, or autonomy, for me, is a critical standpoint. In prose, that is a non-linear storytelling, not just because this is a post-modern fashion, but because with non-linear storytelling, I can question the mainstream narratives. So, the literature, in that case, became a tool of criticism. And this is, for me, an experimental attitude. And to experiment with the question of the state. Now, I will speak of republic of dreams. Because when I speak of poetry, or I speak of this autonomous zone, or autonomy, I think this is a pure idealism. This is some kind of dream. As Bruno Schulz wrote, Republic of dreams. The Republic der Träume. Did I pronounce good? Mr. Franz. So, in this republic of dreams, this is, for me, if I, again, quote Deleuze, creating an autonomous space in language. So, this geopolitical transformations became autonomous zone in the space of autonomous zone in language. This is republic of dreams, republic of imagination. So, when I speak about geopolitical space in poetry, then I speak of imaginary space, imaginary land, that means imaginary geopolitics. That means, example, artistic example, did you heard about Noe Slovenische Kunst from Slovenia, the band Laibach. They created in the late 70s, in the 80s, in former Yugoslavia, radical art, radical artistic practice. And they created a first virtual state in Europe, they call it state in time, and they issued passports. This is a state without country. This is a citizenship without country. Italo Testo, he mentioned to me that John Keats has one letter in which he writes that poet has no identity. I think this state in time, created by Noe Slovenische Kunst, is for the citizens who don't have identities. During the war in Yugoslavia, in Bosnia, for those people who tried to escape from Bosnia, from the closed Bosnia, they could not go with their Yugoslavian passports. But some of them have this non-existent, so the passport of non-existent state, or virtual state. And the soldiers, they just saw that it's written something in English. And they thought, oh, they are from Western countries. So these people could escape with this virtual passport, actually, and they saved their lives. So, you see, that pure idealism sometimes can save lives. So, I will base my post-geopolitics and my geopoetics on this idea. Geopoetics is a term first used by Canadian poet Kenneth White in 1979. And he meant to use that as creating a Gaia movement in poetry, when he put on the question, how to communicate with the nature, because he was revolted against destroying the environment. I think this post-geopolitics, what I am talking about, is anarchistic, because there is no country, yes? This is any literature, this is polysystem literature. It's not literature of one system, but of many systems. And this is a question of identities, of polysystem identities. And, of course, we can speak of polysystem politics as well. I would say, in my idealism, this will be a post-anthropocene or post-capitalist world, of course, in idea. How would we speak about history in this post-geopolitics? I would say this will be a polysystem history. Michael Rothberg, a researcher of Shoah, of extermination of Jews during the Second World War, he speaks about multidirectional memory. That we, when we are thinking about histories, usually we think as a national histories. He said even the Jewish memory is infected by this, to thinking about Shoah like a national happening. But it is something else. And he suggests a global history. So, writing a global history. And that will be a writing of polysystem or polysystematic history. So, from national history, which was a part of that geopolitical interests and systems where I was born, Yugoslavia, for example, or monarchy. Even if these countries were something like, Yugoslavia was not a nationalist country. It was a communist country. Communism was a system which is not a nationalist system. But still, how do they think about Yugoslavian history? It was based on the system of national history. So, it was not polysystem history. When in Yugoslavia they were speaking about, or in this Eastern Communism, about internationalism, it was always infected by these national histories. Soviet Union, Stalinism, it was, of course, a big bubble of this Soviet history, let's say it like this. It was not polysystematic at all. So, but when we're speaking about global history, to refer on that poem about Earth, what's happening now with the Earth, this is a global challenge, of course. Not just as the capitalists say it's a global challenge for capitalism, it's a global challenge for everything. So, Giordano Bruno, he states in one of his writings that the Earth is a living being. That means, if we consider that the universal human rights were established by enlightenment in the 18th century, but in the center of that ideology is the human, now we have to rethink the universal rights. Not just, those are not just human rights, universal rights is something like, universal rights of the stones, of the river, of the air, of the fire, and of the human, and everything. That's different, I think. And that's, because we don't know what will be, the capitalism is changing, what will be the new system, we cannot name it, and we cannot establish any kind of ideology which will be universal, of course. That's why I name it post-capitalism. That doesn't mean that capitalism will disappear, but it will be different than now. Even the great apologists of capitalism are speaking about this at the time. And about relation of nature and man, I would like to read for the end one poem from Shelley, from his Queen Map. Franz Ferdinand is laughing, probably he knows the poem. So, it's a small quote from Shelley, Queen Map. Nature rejects the monarch, not the man, the subject, not the citizen. For kings and subjects, mutual foes, forever play a losing game into each other hands, whose stakes are vice and misery. The man of virtuous soul commands not, nor obeys. Power, like a desolating pestilence, pollutes whatever it touches. And obedience, ban of all genius, virtue, freedom, truth, makes slaves of man and of human frame a mechanized automaton. So, this was Shelley and thank you for your attention. Adesso passiamo anche agli interventi in italiano, già ci sono diverse suggestioni. Buongiorno, sono molto felice di poter parlare in italiano, anche se farò una breve introduzione in inglese. Io vivo da tantissimi anni in Germania, quindi è un'emozione particolare essere qua, in questo posto, nel centro del centro dell'Italia, anzi nel centro del centro del lago Trasimeno e nel centro del lago Trasimeno sull'isola. Parlerò dello spazio della poesia, quale spazio può avere la poesia, in riferimento anche a questo termine, il centro e il margine. Just a few words in English. Sì, stiamo parlando di geopolitica e la prima idea che ho avuto quando ho parlato di questo tema era che non voglio parlare di questo, perché ho avuto questa idea che geopolitica, che è un termo che è molto presente in le media, che ho parlato di Russia, Putin, neo-imperialismo, o che altro. Quindi ho detto, no, 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 questo non ha nulla a fare con la poesia. Of course I'm wrong, ma questa è stata la mia prima reazione a questo tema. E poi, ovviamente, ho avuto a pensare che ho avuto un poesia, come un poesia, come un poesia, come Cavafi, che era molto, molto distante di attuali politici eventi. che ho avuto a pensare, come un poesia, come un poesia, come un poesia, come un poesia. e, ovviamente, Mandelstam e all'imperi poesia. Quindi c'è una grande relazione. E il fatto che possiamo parlare in inglese e possiamo comunicare è un effetto di politica geopolitica, altrimenti non avessere un poesia più ampia, o avessere un poesia più ampia, magari un poesia più ampia, magari un poesia, qualche altro poesia. Inoltre, ora parlare in italiano in order to honor a language which is not so present, quindi è abbastanza marginale, ma, inoltre, dicendo che l'italiano è bellissimo e anche l'angelo è bellissimo. Quindi, scusatevi per parlare in italiano. Bene, seguo in italiano. Allora, stamattina sono andato qui sopra come Sansepolcro, mi pare si chiama il monastero. E niente, ho fatto un giro su quest'isola e Maria Borio, che ringrazio molto per questo invito, ha scritto un testo veramente interessante su quest'isola. e, appunto, è da lei che ho questa idea del centro, nel centro del centro. Però il centro Italia è per noi, perché adesso l'Italia, appunto, come si diceva prima, ha dei confini determinati, ma magari, ecco, in un'altra epoca non sarebbe stato il centro dell'Italia, sarebbe stato il centro di qualcos'altro. Ecco, ogni luogo è il centro del mondo. Questo è quello che ci dice la poesia. Questo è quello che ci dice la poesia, che può diventare, appunto, un idioletto, cioè una lingua che viene, forse, compresa solo dal parlante. Ecco, questa tensione fra la cosa assolutamente propria, individuale, e invece la comunicazione, ecco, questo è lo spazio della poesia. E io, in merito, ho scritto un testo, che adesso leggerò, credo sia meglio, che riflette questo discorso. Faccio un giro per il quartiere romano dell'Eur, sorto all'insegna della modernità e della razionalità. La capitale voleva stare al passo con i tempi per l'esposizione universale del 1942, poi quando l'originario progetto mussoliniano, con il suo ingombrante lascito di edifici in smagliante tavertino, fu interrotto a causa della guerra, negli anni 50, in quello stesso luogo, a Roma, fece timide prove di americanità, hissando sulle sponde del laghetto perfettamente simmetrico quel suo grattacielo di vetro che, in certe mattine, riflette il suo profilo frammentato fin nelle cascate artificiali. Nella sua progettualità totalizzante, l'Eur mi è sempre parso, a differenza di tanti altri quartieri dove gli strati della storia si sovrappongono e attraversano in modo anarchico un luogo di desolante uniformità. Non sorprende che Antonioni abbia scelto questo paesaggio urbano così sterile come cifra dell'alienazione moderna nel suo film L'Eclisse. Sorprende, casomai, che il critico implacabile dell'omologazione capitalistica, Pasolini, avesse scelto proprio questo quartiere come sua dimora. L'Eur rappresenta un paesaggio antropogenico dove, seguendo la definizione di Gilles Clément, la funzionalizzazione estrema dello spazio conduce a una riduzione della varietà. A questa tendenza, il teorico francese contrappone il concetto di terzo paesaggio, inteso come spazio del residuo ignorato dal cartografo, luoghi abbandonati, immuni dalla volontà e all'intervento umano, margini fra il paesaggio naturale, primario e quello antropogeno, angoli perduti di un campo strisce di verde in mezzo ai bordi delle carreggiate in cui si raccoglie una diversità biologica non soggetta a controllo. In analogia a questo terzo paesaggio, quale rifugio della diversità, mi chiedo se oggi la poesia possa essere concepita come una forma di resistenza alle tendenze omologatrici della cultura, una pianta inutile che cresca senza al di fuori che cresca al di fuori dei ricinti prescritti come il sempre vivo di ogni niente che troviamo nelle versi di Milo De Angelis. Per rispondere a questa domanda voglio perlustrare le strade dell'Euri in una grigia domenica mattina vedere che effetto anche fisico mi fa quel tessuto urbano, espressione dello stesso razionalismo modernistico che insidia con la sua tendenza alla riduzione la varietà espressiva dell'immaginario. Eccomi dunque risalire via Tupini dopo essere sceso alla stazione della metropolitana Eur Magliana chiamata secondo una borgata la quale in realtà si trova oltre il Tevere. L'Eur e la Magliana due mondi opposti separati da una collinetta, il fiume e l'autostrada che porta all'aeroporto. Oggi uniti nel nome di quella stazione il primo passato alla storia per la sua famigerata banda il secondo rifugio della bigotta borghesia romana che vuole distinguersi per la sua modernità e si arrocca nei palazzi dai cancelli telecomandati sempre più assillata dalla paura. Signor, guardi qui gli scippatori ce so anche adesso qua eh appostati dietro alle siepi della scalinata di San Pietro e Paoli pronti per l'assalto. è proprio verso la manzodontica chiesa con dignità di basilica minore che mi dirigo salendo la strada fiancheggiata da verdi prati e sontuosi alberi conifere, pini e lecci passando accanto alla sede della confindustria con le sue vetrate scure impenetrabili come occhiali da sole a specchio. Il suo parcheggio a tre livelli culmina nella terrazza pavimentata da capogrossi che sembra un roof garden con vista panoramica per autovetture ma oggi è domenica e mancano non solo le macchine sul tetto ma anche quelle che di solito intasano Piazza Gandhi lì di fronte il Mahatma con il suo bel busto di bronzo collocato su un praticello pare sperduto in quella che più che una piazza è semmai uno slarghetto. Hanno pensato bene di erigire proprio lì davanti al tempio laico di chi crea, produce e distrugge un monumento a chi ha teorizzato la resistenza passiva l'agire senza agire. A volte come scrive Clement nel suo manifesto del terzo paesaggio per garantire la diversità occorre programmare la non programmazione. Pochi metri più avanti e sono già all'inizio di Viale San Pietro e Paolo passando per un parcheggio alberato da cui si scorge oltre le siepi una vista sulla Valle del Tevere. Il luogo oggi è quasi completamente deserto. Il pienone deve esserci stato il giorno prima a giudicare dalla sterminata quantità di preservativi usati dispersi ai piedi degli alberi. In un primo momento sono colto da un certo imbarazzo ma poi alzando lo sguardo mi rendo conto che è il luogo né invaso tanto da creare una singolare scenografia puntellata da una miriade di fazzoletti bianchi. È lì che vanno a fare l'amore i ragazzi dell'Eur o della Magliana o di quartieri magari lontanissimi nelle loro alcove a quattro ruote accanto ad altri contorsionisti del sesso protetti da qualche sprazzo di verde con a posteriori l'opzione di una veduta sull'orizzonte eventualmente stellato. Certe sere magari si devono sbrigare per trovare ancora un posto. in tutto quel meccanicismo dell'amore l'unico atto anarchico rappresenta l'inciviltà di gettare quei rifiuti quasi fossero prove spavalde del loro amore ma forse anche questo non è che conformismo e fa parte di un rituale. Cerco di opporre al senso di squallore che emana quel parcheggio vuoto la scena finale in Zabrisky Point una copulazione collettiva ben diversa una moltiplicazione delle coppie nel deserto come forza dirompente insita nell'atto della creazione e poesia è parimenti creazione e a come Antonioni non a casa o la associ in quel film all'energia rivoluzionaria in ogni luogo penso in ogni momento può darsi quella ribellione quella rivoluzione e mi vengono in mente le parole di Alejandra Pisarnik anche uno sguardo dalla fogna è una visione del mondo la ribellione consiste nel guardare la rosa finché si polverizzino gli occhi ed ecco riproporsi la domanda di partenza quale spazio esiste in un mondo sempre più pianificato sorvegliato cartografato e categorizzato per la libertà la rivoluzione la diversità così inerenti alla poesia e all'amore dove anche l'arte vedi la terrazza di Capogross diventa ornamento dell'ingranaggio industriale è di Pessoa la frase sulla poesia tanto più utile quanto più inutile qui l'analogia con il terzo paesaggio di Clément privo di funzione e produttività calza perfettamente la poesia anzi l'arte più in generale si snatura quando diviene funzione scopo delimitazione grazie a Dio la poesia non si vende perché non si prostituisce l'assioma estetico di Kant non ha perso valore l'arte non può perseguire alcun fine concreto pena perdere la propria libertà ecco che gli sparsi inutilizzati privi di funzione pratica gli interstizi in un mondo sempre più invaso dalla tecnologia omologante diventano un luogo privilegiato della manifestazione dell'essere la poesia non persegue un programma di rivendicazione della diversità analogamente Clément prospetta come detto una non pianificazione del terzo paesaggio ma casomai esprime l'essere l'esistenza dell'uomo in cui naturalmente si riflette la sua pluralità e diversità anche nell'euro questo plastico architettonico trasformato in quartiere deve esistere una vita che pulula se si è in grado di spostare la propria visione anche solo di un millimetro anche qui si trovano per chi sa vedere gli spazi non funzionali del terzo paesaggio e sta a me trovarli e riuscire a scorgerli sul cammino come le scale degradate del palazzo della civiltà del lavoro e vedo allora anche foglie fuoriuscire da una grata nel pavimento di cemento armato vedo il cordolo di travertino di un marciapiede divelto dalle radici di un platano vedo un muro spostato da un albero e mi pervade un senso di libertà e sollievo la certezza che lo spazio della poesia non sia ingabbiabile neppure nel luogo più amministrato e pianificato del mondo mi viene allora in mente il primo verso di una poesia che voglio comporre il mondo è deserto e le more sono infinite con questa immagine non intendo scivolare in un romanticismo spicciolo in un escapismo fuori dal tempo ed è proprio l'analogia fra poesia e terzo paesaggio di Clément ad aiutarmi a inquadrarla in un contesto più reale infatti il terzo paesaggio è da considerare in rapporto sempre mutevole e spesso confittuale con il paesaggio circostante non è un'entità astratta o utopica e lo stesso vale per la poesia il mondo è deserto perché rinasce si ricostituisce si ricostruisce da capo ogni giorno nel mondo reale che già esiste con tutta la sua inscrutabilità come la biosfera si trasforma continuamente e le more sono le more infinite sono la realtà continuamente mutevole che si cerca di afferrare la poesia nasce sempre in un contesto concreto e individuale non conosce un giorno uguale all'altro per usare le parole di Schimbiorska siamo diversi come due gocce d'acqua quella diversità può essere fonte di gioia e autenticità ma è anche solitudine ed esilio la poesia soprattutto quella moderna ne è stata testimonianza non ambivo ad essere poeta si legge da Pessoa è solo il mio modo di stare solo torno a interrogarmi infine sul terzo paesaggio come proiezione dell'inconscio collettivo del rimosso della cultura torniamo da Pasolini c'è un luogo non lontano dall'Eur quella lugubre landa dell'idroscalo di Ostia dove viene trucidato luogo residuale espressione tipica del terzo paesaggio che continua a tormentare l'inconscio collettivo italiano insinuando l'inquietante sospetto che siamo noi stessi gli artefici della perdita irreversibile che tanto lamentiamo è un luogo che Pasolini con la sua morte in una sorta di trasfigurazione sacrificale ha affermato quella diversità che nel suo caso si è voluto sopprimere fisicamente ma che in senso lato riguarda la nostra cultura d'altronde quel suo corpo martoriato ci rimanda alle carogne dei cani gatti o caprioli di cui sono costellati i margini delle strade il terzo paesaggio come la poesia non è idillio utopia ma rifugio di una diversità costantemente minacciata e tragicamente cosciente della propria solitudine si ricorderà il grido di Elsa Moranta al funerale di Pasolini non si ammazzano i poeti non tanto per scongiurare un'impensabile fine della poesia quanto per affermare la insupprimibile vitalità legata indissolubilmente alla pluralità dell'essere umano alla sua meravigliosa individualità sia Moranta che Clément in opposizione al pessimismo affermano dunque un luogo possibile per nulla utopico dell'espressione vitale poetica o biologica capace di sottrarsi alla tendenza uniformatrice della nostra società resta da dire che fra paesaggio e poesia c'è una differenza sostanziale se per entrambi vale la metafora del luogo residuale trascurato non considerato della marginalità improduttiva in cui più liberamente si esprime autenticità e diversità va detto che il terzo paesaggio è pur sempre legato alla corporalità alla materialità a una dimensione sincronica mentre la poesia si apre sia alla spiritualità mistica che la diversità diacronica del tutto immateriale in quanto legata al passato noi siamo le api dell'invisibile scriveva Rilke mentre Pasolini ripeteva io sono una forza del passato la poesia e l'arte sono fra le altre cose una maniera fantastica di riconoscere la diversità nel tempo non solo di se stessi ma anche di chi è scomparso ridandogli vita venendone trasformati ed ecco il paesaggio della poesia si popola di voci infinite come nell'uomo che parlava Ubik di John Burnside con questa poesia chiudo il mio intervento Ubik è una lingua che non esiste più John Burnside è un poeta un poeta scozzese grande poeta scozzese a volte in quegli ultimi mesi pensava a una parola e doveva ricordare l'albero la specie o la rana che quel suono denominava l'albero stesso o la rana o uno stato mentale e non l'equivalente in un'altra lingua la parlata che si era impossessata dei figli e della luce del monte delle tombe che spazzava e rastrellava dei canti nuziali mentre anni di silenzio si assembravano nell'afa stava nel suo cortile e sussurrava il nome di un uccello nella sua lingua materna mentre il ricordo della neve e dei giorni del mercato le mani di suo padre l'odore di tamarindo si ritiravano in nomi in disuso il blu dell'infanzia ripiegato come un lenzuolo messo da parte nessuna sua parola era ricordata nessuna azione divenne fatto o una leggenda nella piazza del paese ma più tardi avrebbero rammentato la parola che disse quel mattino un attimo prima di morire un nome per la morte o forse o l'erba di un prato oppure riaffiorando nella sua mente quell'altra parola di quando era giovane una parola usata raramente anche se c'era a significare tutto ciò che avevano saputo e che nessuno ricordava grazie applausi grazie no scusate io parlo soltanto italiano cerco di cerco di cerco di mettere insieme due o tre cose e inevitabilmente quando mettiamo insieme geopolitica e letteratura saranno cose confuse perché le due visioni del reale non stanno insieme cerco di semplificare al massimo categoria fondante una delle categorie fondanti della visione geopolitica della vita categoria amico nemico oggi noi leggiamo in questo momento purtroppo leggiamo il reale il mondo soprattutto in questo momento quella luce e questa è la categoria fondante che ci fa dare dei giudizi su quello che sta accadendo non miei nemici il mondo è fatto di amici e nemici in questo momento è la categoria importante per leggere la vita adesso lo è sempre stata mi si dirà sicuramente in questo momento però c'è anche proprio degli elementi di ridondanza in questo facciamo un esempio facciamo finta io posso considerare come un autore diversi o qualcuno che si occupa di letteratura che in questo momento vive in Russia stato con cui il mio stato è non in guerra ma in stato di tensione ecco posso considerare il mio amico Solonovic per fare un esempio che è il grande traduttore di tutti tutti gli autori contemporanei in russo parla l'italiano meglio di me tra l'altro posso considerare Solonovic un nemico la geopolitica mi dice di sì sì io sono un italiano in questo momento sono in uno stato conflittuale ai limiti dell'inimicizia bellica con un russo perfetto perfetto no cerco di stare in un ragionamento ecco bene allora chi si occupa di letteratura lasciamo stare se scrive se legge se attivo passivo come ma chi si occupa di letteratura come entra dentro questa coppia qui eh come ci entra ho un'ipotesi ho pensato un'ipotesi che era molto affascinante ma mi è sembrata ottimistica provo a raccontarvela c'è un libro di Schmidt che si chiama teoria del partigiano che immagino cioè molti di voi avranno letto dal punto di vista istituzionale chi è che cos'è la figura del partigiano è colui il quale stando in un territorio dove è nato combatte contro il suo stato o si defila o è neutrale questo è il partigiano che dal punto di vista poi giuridico diventa difficilissimo da ferrare perché non si capisce dove si va a prendere se è punibile in quanto nemico internazionale o se è punibile in quanto cittadino di uno stato ecco mi è venuto in mente che sarebbe molto bello che la figura dell'uomo che si occupa di letteratura fosse assimilabile quantomeno al partigiano cioè il quale agisce da nemico interno da amico coi nemici io leggo io lettore non posso essere nemico di chi leggo perché altrimenti non leggo più chi legge una cosa mia o di chiunque noi non può essere un nostro nemico perché altrimenti non ci legge più perché il nemico va annullato benissimo se mi considero nemico non mi legge più perché io non ci sono più vado scusate su categorie proprio basiche 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 e ci provo bene chi legge il lettore o chi si occupa di letteratura allora sfonda la categoria amico nemico ci mette dentro un cuneo per cui la categoria diventa diventa amico amico forse no però però la categoria fondante che regge il gesto del leggere o dello scrivere non è amico nemico è sempre una coppia però e io tu io che scrivo sono in rapporto di io tu con chi mi legge e viceversa ecco domanda viene prima la categoria viene prima la coppia amico nemico o viene prima la coppia io tu o tu io qual è delle due che genera l'altra perché se è la coppia amico nemico allora è la geopolitica che comanda e da cui nasce tutto il resto se è la coppia io tu allora è qualcosa d'altro della geopolitica e allora forse la letteratura serve a farci scoprire questo qualcosa d'altro della geopolitica ecco io mi fa molto piacere sentire parlare di un'Europa che media o mette insieme qualcosa e mette insieme appunto i contrasti geopolitici che abolisce o in qualche modo appiano in qualche modo risistema l'idea da una diversa lettura dell'idea di confine l'idea di confine di letteratura è molto diversa dall'idea di confine della geopolitica estremamente diverso un confine linguistico è una cosa diversa da un confine politico io non combatto gli altri perché parlano è un io immaginario per carità io non combatto gli altri perché parlano un'altra lingua li combatto perché sono nemici è diverso appartengono a un altro stato a un altro governo a un altro regime a un'altra nazione ecco mi ero e forse mi sono illuso per un po' che fosse anche la letteratura a mettere in evidenza a dare evidenza all'io tu contro amico nemico guardiamo però la storia come è andata la storia non quella di oggi un po' di storia pensiamo alla prima guerra mondiale pensiamo a quanti autori di grandissimi autori grandissimi poeti soprattutto partecipano a quella guerra in quanto volontari penso a un grandissimo poeta tedesco august stram il quale è un signore che è un alto funzionario delle poste il quale da volontario è già quasi potrebbe anche non essere richiamato il quale va a combattere convinto di fare la cosa giusta beh va a combattere contro gente come Ungaretti per esempio e è un suo lettore no è un suo nemico stram muore nel 1916 come si dice salta su una mina in in Polonia beh c'è andato da volontario poteva stare a casa è un grande poeta sì è un grande poeta il quale aveva tanti nemici in quel momento in quel momento in lui prevaleva la geopolitica ci può dire nazionalismo diciamo quello che vogliamo il senso della patria Heimat quello che volete però era quello l'elemento dominante beh Ungaretti Ungaretti è volontario cioè si ruola per chi vuole ecco spesso proprio Ungaretti e stram anche dal punto di vista linguistico è una cosa abbastanza strana stram in italiano non è tradotto in niente anche perché è molto difficile Ungaretti e stram combattono su due fronti diversi sono partiti tutte e due sono due grandi poeti che però in quel momento non appartengono alla coppia io-tu appartengono alla coppia amico-nemico è un brutto esempio quello che faccio sì è un brutto esempio ma è un esempio di quello che è successo ecco quando sarà il momento in cui io potrò sostituire alla coppia amico-nemico la coppia io-tu in questo momento francamente io non lo so grazie a quindi un po' piacciono un po' piacciono un po' a un po' piacciono un po' bene allielo ciasc un po' piacciono infos απο si quando Sì, 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 grazie. Again, I'm going to do three things. The first is a little remarked thing. I had prepared in the beginning something more lengthy than this. If I'm too quick with my English, please hasten to tell me. I will slow down. I had prepared something lengthy to the effect that there was no way and thus no necessity for writers to worry about geopolitical effects of what they write. I went on in this first prepared remarks for some paragraphs about how any way of power of the thought police to predict the political, the strategic effects of some literature in the broader sense, like not only poetry, was based on faulty logic. Hooray! Power was always wrong. There was no way to act strategically as regards to it, so no need for us to think about it. Then I remembered that there are people right now who will see this differently, namely writers in prisons, in torture prisons, and they're jailers all over the world. that the logic of geopolitical power applied to texts may be wrong, but it doesn't mean that there won't be predictable power demonstrations against texts. What I wanted to get at with that other lengthy text that I now don't read for you was that the fact that from the point of view of the text, good and bad political vision, including geopolitical vision, are indistinguishable if we only stay in the text. There are, as I'm sure some Italian colleagues have already said it, I didn't understand it, there are great poems and songs expressing horrifying bullshit. Pounds, Canto 45, you know the one, Wilder's Aura, is one that comes to mind. It goes also the other way around, you can have like the most beautiful views on the world and express them in the most horrifyingly, artistically bad way. It goes both ways, art doesn't care. That was what I wanted to express and thought it was clever. And always the possibility for sudden changes in meanings of text that already exists, text that already is in use, use in the broader sense for literary text, meaning also songs, plays, what they mean to different people. And there is always this possibility of sudden change brought about by geopolitical events that are, by definition, not in the control of either the writer or the audience. I take one small example. And this is by far not as well researched as the stuff that I already heard here, but still, I bring this to you. There is, for example, this nice, if a bit overtly pathetic stanza from a Viennese workers' song, Die Arbeiter von Wien. It's sung from the beginning of the 20th century. And there is this one line in the second verse that says, this beautiful, if a bit overly dramatic metaphor, we are the sowing men and we are the seeds and we are the field for the coming world. This is this one line. And most citizens of Vienna, as it is now, most, especially proletarian citizens, people who are socialized within the Social Democratic Party, which is most Viennese, know this tune. It harkens back to the foundation myth, obviously only partially true foundational myth of Vienna, as it is now, Old Red Vienna. Only, right now, since February, this tune changed, the tune that this song is sung to changed the meaning of the stanza. For the song is sung to the same melody as, you know, Armiya Krasnaya, the song of the Red Army is the strongest. And nobody knew if this song or that song was the first to have this tune. This was a debate between Social Democratic Party of Austria and KPDSU back in the day. Suddenly, we get to feel that whatever one individually might have felt about the old Soviet Union and the old Soviet Red Army, the thing that now runs with this tune, with these symbols, ain't it anymore. With that entity, with that entity then, one could disagree, but one could at least share a tune, share some broad tradition, if nothing else. There were more kinds of progressive politics than Stalinist ones, but Stalinist one was one part of a broader tradition. You could say, no, bullshit, but it's somehow part of a shared history, of a shared picture. With that entity, you could share a tune. With this entity right now that also uses those same symbols and also calls itself Red Army, one cannot. The song feels to me, and I'm not the only one, I checked, unsingable now. It is no longer possible with the same innocence to say like, we are the sowing men and the seeds in the field, we are the working men from Vienna, blah, 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 blah. So, easy example, everybody knows it. Geopolitical change becomes geological change in the continents of the poetically stored informations. We will not be able to manipulate such storage spaces strategically, geo-strategically. We cannot in advance decide to strategically alter how we write, accounting for this kind of changes. because this is not a possibility. So, poetry never can geopolitically work like one step ahead of the geopolitical entities. We shouldn't, in my humble opinion, try to do, but we can, and here is the word of little hope, but we can stay alert that this thing is happening all the time. Even in the quiet parts of the world, like here, where it is possible, and I quote Helmut Schrantz, to mistake being rich for social progress, we can keep an eye to which registers of language, which catalogs of knowledge, of information, our writing individually would keep present, would perpetuate, would verweisen auf, would refer to, thank you, if other forms of information suddenly wouldn't exist anymore. Like, imagine what you write, what you write, what you write, against the backdrop of a world without Wikipedia, or without secure access to even libraries. What registers, and this would be my only idea of how to behave geopolitically as writers, as poets, especially, what registers does our writing individually keep present, and for use by whom? Who can then take the book if there is no Wikipedia? Oh, there is a register of knowledge. Maybe I don't find everything in this poem, but I know now, okay, there is these registers that I can. search for, think about. This was the prepared thing. Now I have, in light of the last two days, I have two more remarks. The one, I do not understand most Italian that is talked here. I understood you, mostly, some of it, maybe, but thank you for being very slow and concise. but I did not understand enough to be quite sure, but I seemed to understand that at many points, the question of English as an imperial language, as a colonial language, was present, and the secure, I felt as some kind of, to me, strange security that anti-colonialism, non-colonialism, nativism, is somehow good, is somehow better, to say, we have, we have to be aware that the colonialism happens, and this is the foundation for maybe, that we always use English, so let's not do that. and I want this, to me, strange security, I want just to remind everyone that at first, yes, this might be a good idea and good tool, but I remind myself that Hitler's fascism, not the Italian one, but the Hitlerian one, and also the Austro-fascism that we had from 1934 onwards, the Catholic one. And what about Hungarian? No, but yeah, yes, you're still, yeah, but you're still, all the three of them, also the Pfeilkreutzler of Horthy, yes, there were all, imminently, anti-colonial, nativist, identitarian movements, that, I can say this, because in my own family, I have people who are very much on those conspiracy theories, and you realize the way from left politics, from anti-colonial politics, to, no, no, we need strong borders against invading Americans, and the evil monoculture, and now, yes, yes, George Soros, and all that, so there, I would say that, it's not that obvious, that anti-colonialist is good, I just wanted to have this, somehow put into this room, yeah, and the third one, now to close with this, is a poem, because I was reminded that one should also read now poetry, it contains not a geopolitical program, so much as a political economic one, that is in the small sense of the word economic, housing, housing and fear, and maybe by that way, also geopolitical again, because since the Iliad, the question was, the geopolitical question was, where to put all the young men with something to prove, and too much aggression, and time on their hands, and I have this one thing, yet in English, about housing, here I had to Google Carl Schmitt while you were talking, so yeah, about housing and fear, and political motivation, this was a poem, about where does the political fear, of the right, in Austria, at a certain point come from, it's taken out of it, so some parts were maybe out of context, where do I start, hmm, yes, the third stanza, of one of those longer texts, is then, in plain English now, and enough mincing of words, if you live, in an apartment complex, or a multi-party house, then you are not expecting, that just now, your little door with window, your crib, your, the uterus, away from the uterus, will be penetrated, will be fuckered, by some strange man, who comes to clean the world out, because there's, there's monitoring here, going on, and neighbors are there, in this, oh, this special way, and you see the other doors, and walls, and there's the smell of other people, and with them, there is stuff, and yeah, them stuff, that's the tentacles of existence, you're hardened, after the naked, awesome flowers, wind, world, garland, enclosed, in the apartment complex, in the multi-party house, because there's an interior wall, with an earshot, and there are especially, streets, and they allow you, to have the one, and the only the one, or two, or only two, but one direction, an escape route, where the earthquake occurs, when the house comes, your uterus away, from the uterus, of which you, oh, so dearly dreamy dream, when you dream, you wear a tiny, totsy sotsy totsy 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 totsy, ah, when you're flat, your apartment complex, is threatened, and besieged, and fuckered, by the evil outside world, and there is, but a single direction, and there is a way in, here, and there is a way out, over there, and there are no others, that means, you can, by all means, be afraid, from time to time, that a strange, evil man, will come, and take your things, away, from you, and the, but, tenetrate, 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 your vault in womb, and you cannot, be afraid all the time, you do not need, to be afraid all the time, and not from, all the directions, not from, as they say on Pornhub, all the holes, on the other hand, if you live, in a single family home, tightly sealed, by earth and air, in all the six directions, front, back, left, right, above, below, and when the evil, strange man, can also, come from all directions, front, back, left, right, above, below, and you are afraid, in all the directions, going up and down, much like how, in a cow, the stuff goes up and down, in her second stomach, you go out, and it is from a cow, whatever, and both from within, and from without, threatens to destroy, your heaven, and you are threatened, by the strange evil man, from sunrise, and you are threatened, by the strange evil man, you are from south, and you are threatened, from downfall, by evil men, and you are threatened, from the north, by those evil, strange men, and so, 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 would it be for me, if I were to inhabit, a single family home, because the world, is threatening, you penetrate, my things, that everything, in the world, will teach me, to fear everything, in the world, and it would be, at that juncture, that her neighbor, would be so inclined, as to ask me, why are you gawking, in this way, as in, you are obvious, with your white, white irisens, her neighbor, and I'd say, I'd learn to, I fear her neighbor, and, there is a nearing movement, of the strange, strange, great others, and it would be, at this juncture, that her neighbor's, facial expression, would change, and he would grip, my aura, and, an obligatory, smile would flash, of the distinct, party functionary, and, it would be, also at this juncture, that, he would say, and he would proclaim, have you not heard, her neighbor, the great, evil nearing movement, of that great, strange other, that wants to join, in your uterus, away from the uterus, the great, all embracing, penetration, of just now, her neighbor, your windows, and your doors, and fissures, the big, bad beer, threatening us, from above and below, south, east, west, he has a name, and that's whispered, by other lads, beyond the horizon, and his name is, George Soros, this is a valid rumor, quotation marks, that was that, the point with a valid rumor, was that, a right wing, party politician, was saying that, as a source, of a valid rumor, that was the only source, for something, whatever, that was this, thank you very much. I thank, George Soros, for supporting, us. Thank you. It's been totally fascinating, to listen to the variety, of responses, to this tricky, tricky theme, and I have to admit, I have to admit, to several days, of existential despair, when I read the title, for this section, because I just thought, about geopolitics, what does it even mean, or rather, is there a single, sort of definable meaning, to which we could all, from our very different cultures, and literary contexts, kind of meaningfully subscribe, and I kind of think, what I ended up doing, I mean, I ended up in a way, taking the, sort of putting a line, or the geopolitics, became more about, more politics, and it became, I suppose, more about, I found myself thinking, about the relationship, between poets, and the political world, around them, and on the pressures, on poets to respond, to politics, and to events, and you know, which might sound odd, because after all, who actually cares, what poets think, you know, who cares, I mean, I mean, I mean, who do poets, actually speak to, yeah, we speak to, I mean, who are we here today, I mean, we speak to other poets, so it's, and yet I think, it's a very peculiar thing, because, and it's an Irish thing, as well, because poets have a public role, poets are seen as people, with some kind of moral authority, it doesn't mean, that people actually, read the poems, because that's, would take work, and I, you know, I even, I even think, because I remember, when Seamus Heaney, won the Nobel Prize, and there was a big reception, in Dublin Castle, and I came in, with a poet, who was, as we say, a bit the worst for wear, he was a bit drunk, and the security guard, was saying, you know, you can't come in, this is an important, and I was saying, this is man, is one of the most, interesting and important poets, that we have, and can you please, let him in, and so we came in, and then later on, I remember, all of these politicians, queuing up, to get Seamus Heaney's autograph, but not a single one, had a book, by Heaney, so they were, they were getting out, their programs, and bits of paper, from their pocket, because they'd never, they'd never bought a book, by him, you know, but anyway, so, 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 this is just one of the things, that I'm, that I'm aware of, you know, that the nature of the role, of the poet, and who the poet, actually kind of speaks to, and so, just, you know, just going back, to that thing of, okay, what does, what does geopolitics, have to do with, with poetry, I mean, I remember visiting the house, of Robert Graves, great English poet, who, who fought in the first world war, as well, we're just, we're just, we heard about poets, in the first world war, but, in Dea, in Majorca, and one of the statements, on the wall, it says, there's no money, in poetry, and there's no poetry, in money, and then I was thinking, we could substitute that, you know, there's no geopolitics, in poetry, there's no poetry, in geopolitics, but that is, if you have a certain, kind of cast of mind, if you have the kind of mind, that posits, some sort of separation, between the world of action, on one hand, and then artistic endeavor, I mean, I think, I think of something like, W.H. Auden, English poet, he says, poetry makes nothing happen, you know, poetry makes nothing happen, it's a way of happening, a mouth, he said, but the thing is, he wrote that in a poem, where he was elegizing, the great, Irish poet, W.B. Yeats, for whom poetry, was totally embedded, in the intersections, of culture, and politics, and violent action, and in Ireland, in Ireland, we're very well, familiar with those intersections, and with the pressures, on poets, to respond to them, because, as I was saying, because poets are perceived, to have this kind of public role, you know, they're expected to respond, but also you have to respond, in the right way, it's not just enough to respond, you must respond, correctly, politically, you know, so for instance, I mean, I think an example of this, Seamus Heaney, again, to go back to Heaney, he met, on the Belfast, to Dublin train, he met the spokesman, for Sinn Féin, the kind of political wing, then, of the IRA, and this is during, the height of the Troubles, in Belfast, He tells the story, of this meeting, you know, the spokesman says, Seamus, when are you going to write something, when the fuck, are you going to write something, for us, he said, and so Seamus Heaney wrote, this is his poem, where he responds to that, so he enters, and sits down opposite, and goes for me, head on, when for fuck's sake, are you going to write something, for us, if I do write something, whatever it is, I'll be writing, for myself, and that was that, The funny thing is, there is the other account of this, which is the political spokesman, he describes it like this, I saw Seamus, sitting two seats down, across the carriage, I went over, and asked me, if he minded me, sitting down, and talking to him, and so they have this conversation, and he said, it's the time of the hunger strikes, in Northern Ireland, and he says, you know, the Archbishop, Archbishop of Ireland, has already visited, the H blocks, and to the embarrassment, of the British government, he compared the prison, to the sewers of Calcutta, Seamus told me, he was writing a poem, and had been thinking, about the prisoners, he told me the story, from Dante's Inferno, of Count Ugolino, and how he was, imprisoned underground, and left to starve, Ugolino's eating, his dead children's flesh, to delay his own starvation, Seamus said, he imagined this could be, some sort of metaphor, for hunger strike, it's hunger striking, I didn't know, what he was talking about, so that's the political, person's view, and I think, to me what's interesting, is the difference, between the two accounts, like Heaney's response here, is that he is in fact, I am in fact, writing something, about this, that bears, if you like, on the geopolitical situation, of the Northern Ireland conflict, and the prisoners, in their excrement, smeared cells, seeking the political status, that Margaret Thatcher, refused to give them, but to me, it's the how, of the response, that's interesting, the reaching for the story, of Ugolino, in the inferno, who was locked up, in a tower in Pisa, and left to starve to death, and now, is now locked on, to his oppressor, Archbishop Roger, and the two, kind of gnawing, at each other, still, Heaney says, you should know my name, for I was Count Ugolino, this was Archbishop Roger, and why I acted, the jockey to his mount, is surely common knowledge, how my good faith, was easy prey, to his malignancy, how I was taken, held, and put to death, but you must hear something, you cannot know, if you're to judge him, the cruelty, of my death, at his hands, so listen, now, listen, to this story, from the inferno, he's saying, allow yourself, to be immersed, in a 14th century vision, of hell, and map that, onto your own reality, if you want, so really, Heaney's answer, to his inquisitor, is doing two things, first of all, it's asserting, the artist's right, to his or her, creative independence, remote from partisanship, or prejudice, but the other thing, it's saying, poets inhabit the same, emotional crucible, as everyone else, they live in the world, and their imaginations, their imaginative responses, are shaped, by the forces around them, call them political, or geopolitical, so the baffled politician, wants some kind of direct, usable response, and despises metaphor, the poet reaches, inward and downward, through time, until he finds an echo in Dante, that can reverberate, in the present, we see the same process, for instance, in the famous, kind of bog poems, that he wrote, looking back at bodies, that were preserved, in Danish bogs, for 2000 years, out there in Jutland, in the old, man-killing parishes, I will feel lost, unhappy, and at home, and I think, poets always lead, this kind of double life, the deep interior life, of subterranean feeling, and response, and the life, with the feet, on the ground, of unavoidable reality, the antennae tuned, to the rumours of war, I mean, I was thinking of, for instance, of Antonella, and Edda's book, Notte di pace occidentale, Nights of Western Peace, which she wrote, during the first, Gulf War, and the murderous breakup, of the former, Yugoslavia, that we heard, that we heard, about earlier, I mean, the notion of, of Western peace, was kind of pretty, ironical, the sense being, that the world we inhabit, is always precarious, always on the brink, of conflagration, or disaster, or in Jamie McKendrick's translation, these two are war poems, composed while it rages, not far off, not nearby, seated askew, at a table lit by lamps, while the doors are hung, with palm fronds, sorry, I think, like, the European imagination, is totally war haunted, we're never far, from the apocalypse, we're always writing, in the face, of monstrosities, and of course, you know, let's not food ourselves, this isn't the fate, of Europe alone, I mean, I was reading, earlier this summer, a new translation, of Tang dynasty poems, and, it just struck, again, like, you know, these poems were written, in a country ravaged, by civil war, that cost millions, millions of lives, and disrupted, and displaced millions, of others, and led to disastrous famines, so all those poems, that we know, and so on, came out of that, out of a total carnage, you know, the country has fallen, dofu, cries of stricken humans, rise this day, through ranks of clouds, to heaven, and so on, there's tons, you know, lines, that come straight out, of that, so, in a, in a, in a, in a riven society, this translator says, one of the jobs of poetry, is to, is to give, an account of it, if a civilization, were bent on destroying itself, there will be poets, to bear witness, and, and so the poets, in that Tang dynasty anthology, are, are witnesses, in their, in their different ways, of that destruction, I mean, that idea of witness, I think, speaks very, very, very forcefully, forcefully, to me, in our own moment, especially as I stand here, or sit here, rather, in Lago di Trasimena, because I think, I think of, you know, they say the waters of this lake, ran red, with blood, after the most destructive battle, of, of historic times, you remember your history, from the, Gaius Flaminius, and his army, wiped out by Hannibal, in the second Punic war, 15,000 Roman soldiers, destroyed, another 10,000 captured, right here, right here, just a little bit up, 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 from, from, across from this lake, and so I think, you know, my consciousness, as a human being, and as a poet, is consumed, obviously, by, by war, by the war, in Europe, right now, but by all the wars, we don't talk about as well, and, you know, and the Syria, and Palestine, and so on, because we only ever have attention, for particular wars, at a time, but I grew up as a poet, reading the poets, whose trajectories, have been shaped, by the second world war, I mean the war, was recent enough, in my childhood, to cast a long shadow, and that shadow, was deepened, by the reality, of the cold war, and so on, I mean the poets, who made, big impression on me, were people like, Cezlo Miwash, and speaking of Herbert, and Paul Celan, and then Tadius Rozovic, and Vizsla Zimborska, Miroslav Holub, all those kind of poets, were the animating figures, of my generation, in Dublin, so poetry, of resistance, and defiance, with a small r, and a small d, poetry without pomposity, that told the truth, about the world, without selling, the imagination short, and obviously, the poets of Spain, and Italy, and France, whose trajectories, were determined, by resistance, to the tyrannies, of their day, and for months, I suppose, since the latest, conflict started, I've actually, gone back to Miwash, I've gone back, to the poems, that he was writing, in Warsaw, after, in the ruins, of Warsaw, after the second world war, and elsewhere, you know, poems like, for instance, a book in the ruins, Campo dei Fiori, you mentioned, Giordano Bruno, his poem about, Giordano Bruno, a great poem, Campo dei Fiori, or a poor Christian, looks at the ghetto, a song on the end of the world, and that's what I actually call this talk, was a song on the end of the world, and I'm going to finish, by just reading, kind of as we lurch, from disaster, to disaster, and the planet, is lurching, towards its own destruction, this poem is called, a song on the end of the world, and it's translated, by Anthony Miwash, on the day the world ends, a bee circles a clover, a fisherman, men's a glimmering net, happy, porpoises, jump in the sea, by the rain spout, young sparrows are playing, and the snake, is gold skinned, as it should always be, on the day the world ends, women, walk through the fields, under their umbrellas, a drunkard grows sleepy, at the edge of a lawn, vegetable peddlers, shout in the street, and a yellow sailboat, comes nearer the island, the voice of a violin, lasts in the air, and leads into a starry night, and those who expected, lightning and thunder, are disappointed, and those who expected, signs and archangels, trumps, do not believe, it is happening now, as long as the sun, and the moon are above, as long as the bumblebee, visits a rose, as long as rosy infants, are born, no one believes, it is happening now, only a white haired old man, who would be a prophet, yet is not a prophet, for he's much too busy, repeats, while he binds his tomatoes, there would be no other, end of the world, there would be no other, end of the world, and you wrote that in Warsaw, in 1944, it speaks to our moment, I think now, and I'll end with that, thank you. We've been very good with times, I mean we're a bit late, but we also started, almost one hour later, than expected, non so se siete d'accordo, if you agree, like I would like to open the floor, very briefly, before we go for lunch, se qualcuno ha una domanda, magari viene il microfono, non so, non so. Allora, io ho una domanda per te in realtà, però la aprirai a tutti, quindi se va bene la posso chiedere, la posso fare in inglese? Sì, ok, so shall we say in inglese, because I said it. Yeah, oh sorry, yeah, so the discretion would be for her, specifically, but I can, I would like, Anybody feel welcome to answer that? So I'm going to ask it in English. I wrote it out so I can save some time. So I followed with a lot of interest your brief talk on transcending borders and borderlessness and the radical openness that you talked about. And my impression is that it is a declination of postmodern practices or the blurring of categories, you know, the liquidity of it, the refusal of clear-cut definitions. And as an academic base in the United States, I'm very familiar with this type of discourse in its trajectory because it's much more prevalent over there than it, I guess, it's starting off here. And so my question is based on my observation of this paradigm shift. And I wonder whether the move beyond borders into borderlessness is a political and literary practice that's not constitute a paradigm itself, right? If we are to embrace it wholly as you invited us to do. And so I guess my hesitancy is with the perpetuation of a binary opposition of the kind of us versus them. And that to me seems a little bit of a step on the same path that we've been on. And one that is still based on a dualism, even if the second term of this equation is multiple and heterogeneous. There's still sort of a block existing in opposition to something else that already exists and that must be overcome. And so I wonder how you, Martia, but everybody else, I wonder how you guys navigate this territory and this quandary. Thank you. Wow, such a loaded question. Anybody who wants to start? No, I'm actually very happy with this question because it's something I am wondering about as a person, not just as a poet, not just as a scholar, not just as a teacher at times it happens, but I find my own answer, my own personal answer in queerness, in my interpretation of queerness, which is like, as I tried to mention, like always moving, always being like an open spectrum of possibilities, et cetera. I understand how the risk of reproducing a paradigm is always somewhat no, questo corvo sulla spalla o comunque questa ombra, no, like a shadow. So I don't have an answer for you. I know what I practice and I try to only talk about what I do. What I dream is to be able to avoid any form of binarism and any form of paradigm that reproduces certain kind of things, which I think also connects to the little misunderstanding we had, which was so interesting as in like being anti-colonial. It's a matter of practicing a decolonization of the mind. That's what I was sort of trying to say rather than, but it was very, very important, I believe also to remember us through your impression also how fallace può essere la lingua, something got lost in translation and so we always have to be open to dialogue. Let's hope that queer could actually be an answer not just for me but for everyone. there's a lot of reflection going on about, of course, queerness, diversity and so on and I mean you've all heard about the cancel culture, haven't you? so we know now that Shakespeare might have been a racist. Yes, probably. It's very probable that people in the Renaissance weren't aware of equal rights of women. I think it's very probable. so the thing is how do we judge literature, how do we look back at the past because the past is what we all say, we are creatures, we are made out of that past which is full of you know the wound, the injustice, it's there so we can reflect on that I think it's very important that we do it but we should avoid to transport our thinking in an anachronistic way into the past and I think knowing that you know looking back at our immense tradition which is a Western tradition it's a patriarchalistic tradition or whatever all the same we know that what we are doing now what we are saying today it's possibly also full of errors. Thank you. I will add to this your comment political correctness in literature I think it's banal simply it's banal in prose when I write prose when I write I start to create a character who is politically correct I think it would be fake so I create different characters who are and no one of them are politically correct and I think and I think even those who are politically correct actually they are repressing their own emotions so it's much better to say something loud and then to reflect on it than to repress it so this paradox we cannot escape of course that binarity that you were mentioning in your question anyone else wants to add something on this question but I know that there is another question coming from the audience I think that the most important thing that we are mother for me is for what you said that now is the problem of identity and it is connected with the concept of you cannot avoid the problem of the concept contract without speaking about identity and within the borders outside the borders about the person and about the person inside of the country people language that are disappearing you know also English and it's sad that all the good things we don't know we use language in ways with different aspects and always a bit time to need the expression aspects and which because I'm very deep with ourselves that self-possessed because we're around them funny and a very bad experience indeed and that's what I mean that the problem is identity if we want to speak about culture without focus on this problem we are talking about something that actually is but but the cancer culture also tried with Lolita or or son of Conrad or someone who represented the colonial people enjoying it with a lot of curiosities also we cannot simply circle the cancer culture for that because I can understand that for example a person who come from the ex colonies in Italy that passed through you spoke about Eura that passed through Eura and they don't have only an eye of the male man white white male men but also an eye that represented torture pain suffering war in their lands and so on to me the to make the whole anti-colonial thing also to me the problem seems I just can't talk about an artistic wound for me seems to be the problem of what we in German would call maybe Sprechort localized speech speech from a specific perspective that seems also a part of this whole discourse that our colleague now opened up again where you have to be clear from each every discursive speech has a place from which it comes like I speak as a white heterosexual man that kind of stuff the thing is to me in the last 10 years this kind of thinking this kind of I speak as I have to find the place from which I speak from whence I speak it produced some very interesting and very interesting very good poetry I think like stuff from Daniel Falk maybe that tried to get empathically into non-human or natural realistic points of view like from the point of view of a polar bear stuff like that and I liked the poetry very much it was a very interesting way to like how far can I get with speech that it's no longer human speech is this possible no this is a paradox we play with this paradox it's a philosophical problem the guy is also a philosophy professor and I like that stuff but I had a problem with it and the problem was to me that this kind of poetry interesting so it is and new so it sounds it had to me it brought with it the problem that there is no longer in the room of the language the place for the critical individual that is the instance that can not only see the world in some to be determined way but also to criticize it to say this is this should be like this so that by sorry bad english empathizing empathy we lose a bit of the critical thinking that we so very hardly won the last 300 years over I would guess because with empathy nothing is won that would be my fear I can empathize with a position then I can no longer criticize it and if the position with which I empathize is aggressive is for lack of a more complicated word bad then I will empathize with a bad thing and that will have been that inside of this speech bubble I don't have a way out of this this was a fear that was going stronger to me when I saw more examples of this kind of art in literature and in the fine arts in paintings and sculptures that all had these two things in common firstly they fascinated me it was interesting art to me and on the second they seemed to eliminate the possibility for criticism for specific positions and I'm not over this wound but I just position I think this question of is maybe the linchpin of these questions yeah maybe someone else wants to run with this I'm sorry it's my fault I was the one who was supposed to tell you I enjoyed everything that I heard today I'm so glad that I had a chance to meet you all I hope that people in public can recognize that there's a variety of interventions and a capacity to put in light many questions maybe we didn't find any answer but surely we raised many questions in between each other let's go and have lunch okay thank you everyone for being here